Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Oggi voglio fare un video per farvi vedere come si fa con un programmino che si chiama Audacity a cambiare la tonalità e la velocità agli mp3. Bene ragazzi, c'è un programmino che si chiama Audacity, io poi vi lascio il link in descrizione, è un programmino gratuito che possiamo scaricare gratuitamente da internet, quindi prendiamo un mp3, io sto usando una canzone che si chiama Dentro di me, una mia canzone, possiamo sia tracinare dentro direttamente al programma così come ho fatto io e vediamo che subito si apre la canzone oppure andare a File, Importa, Audio e scegliamo un audio da dove prendere l'audio che ci interessa mp3 o anche Wave. Bene, allora, per cambiare la tonalità di una base oppure di un mp3, comunque una canzone, noi selezioniamo tutta la traccia, cliccando qui su questa parte celeste, poi andiamo ad effetti, cambia intonazione e vediamo che qua c'è scritto semitoni, vediamo questa barra, se mettiamo 2 ci aumenterà di 2 semitoni, significa di un tono, quindi da una tonalità ad esempio di Do maggiore andremo a Re maggiore, facciamo ok e la canzone si sarà trasformata un tono più sopra, ascoltiamo. Bene, se facciamo modifica, annulla, cambia intonazione, torniamo indietro perché magari abbiamo sbagliato, non volevamo cambiarla così tanto, volevamo cambiarla di più e sentiamo che è ritornata alla tonalità originale. Se invece vogliamo abbassare la tonalità, sempre selezionando tutta la traccia, andiamo ancora ad effetti, cambia intonazione, avanti al numerino ci mettiamo il segno meno. meno 2, meno 3, meno 4, diciamo meno 4. Ovviamente più abbassiamo, più cambiamo la tonalità e più un po' si rovina l'MP3 perché non è come i file MIDI che possiamo cambiare quando vogliamo e di quanto vogliamo. quindi facciamo meno 4, alziamo un pochino il volume, ok, sentiamo quello che è successo. sentite bene che è cambiata la tonalità, ok, stoppiamo sempre con la barra spaziatrice, si può avviare o stoppare, oppure con i pulsanti qui play e stop. quindi andiamo ancora a modifica, annulla, cambia intonazione. Quindi invece per cambiare il tempo, perché magari ci serve di velocizzare una canzone o rallentarla, perché può capitare per studiare alcuni passaggi veloci, magari noi rallentiamo una canzone in modo che possiamo studiarla in modo più dettagliato, andiamo a cambia tempo e più andiamo verso destra, quindi con il segno più e più velocizziamo la canzone, più andiamo con il segno meno e più la rallentiamo. proviamo a velocizzarla, 20, ok, vediamo che succede, si accorcerà ovviamente perché diventa più veloce, e vediamo che la canzone diventa molto più veloce, al contrario se andiamo a meno, la canzone diventerà più lenta, ovviamente. Andiamo ancora a modifica, annulliamo se vogliamo annullare o altrimenti se ci piace va bene così. Per salvare questo progetto noi facciamo file, salva progetto, salva progetto con nome se gli vogliamo dare un nome, e lo salviamo ad esempio sul desktop e scriviamo dentro di me Mario Montemurro, per esempio versione lenta, la salviamo un attimo, e come vedete lui ci creerà proprio un progetto che si chiama dentro di me versione lenta, in modo che se noi la chiudiamo e poi riapriamo questo progetto avremo diciamo tutto quello che noi abbiamo modificato e ce l'avremo ancora qui, finché non decidiamo invece che abbiamo finito di lavorare su questa traccia e salviamo il file, quindi faremo file, esporta, e scegliamo, esporta come mp3, come wave, facciamo mp3, sempre sul desktop, versione lenta, salva, ok, è molto semplice questo programma da usare, quindi vedrete che vi troverete bene, ok, chiudiamo il progetto e a questo punto avremo qua la nostra versione lenta mp3, se l'abbiamo rallentata, oppure versione abbassata, alzata di tonalità, insomma quello che abbiamo voluto fare. Bene, come abbiamo visto questo programma è molto semplice da usare, spero che vi sia d'aiuto, vi lascio comunque il link in descrizione in modo che possiate scaricarlo sul pc e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.